Musica Rispetto a queste aperture che sono arrivate dal governo, cosa dite? Siete disponibili a instaurare un tavolo di discussione? Il governo se ne vada, faccio un passo indietro, questa classe politica verrà contannata dalla storia come la peggiore e la più pericolosa faccio un atto importante, che almeno nell'ultimo rigo si possa scrivere, se sono pentiti hanno ridato dignità al popolo questo potrebbe essere un passo, solo a questo siamo disposti ad accettare Un'ultima cosa Calvani, rispetto a questa preoccupazione di infiltrazione di esponenti di destra, tutta questa roba qui che si è detta Lei li sta vedendo? No Lei li vede, e allora? E allora, era tutto strumentale Italia, Nazione, Rivoluzione! Italia, Nazione, Rivoluzione! Italia, Nazione, Rivoluzione! Italia, Nazione, Rivoluzione! Se non le conoscete, guardando il rivoluzzo, vi riconosceremo nel vivo di saluto Io si eserro faccio un teso, mano aperta di dare, pensando a quello che si ha preso dalle regole prescritte E un saluto singolare, pazzo con la mano destra, con il sole di dentare Si usa a farlo la maestra, per avere il suo permesso di assentarsi andare a cesso Una roba di riconoscente, senza doppia prima vista Solo il momento è che è fascista, a questo saluto è qui Ciao, Calvani, rispetto a questa preoccupazione di infiltrazione di esponenti di destra, tutta sta roba qui che si è detta Lei li sta vedendo?